sono le 16.11 qui mi trovo lasciato i circonficienti come un locale marci fatto un bel giro oggi ecco il filo cane questa baia vediamo un po no questo è docile vedete è docile va poco tramonta il sole un frattore sta presa la strana a bruciare albusti secchi ecco quasi tramontato il sole però l'intero preso di 2 marzo tramonta prima il sole il calo vestiti sono le montagne che fanno tramontare prima il sole questa è una strada questa qui che fra un chilometro andando verso nord si li congiunge con una strada 40 ecco il tuo treno che esce qua al magazzino con 10 strada 40